Ringrazio tutti quanti presenti, soprattutto la città di Pescara e l'Abruzzo e l'ospitalità che ho ricevuto, veramente incredibile, quindi ringrazio tutti quanti voi per essere qui presenti. So, just, I mean, I think that growing up a pivotal time for me that kind of changed my attitude was leaving the comfort zone of home and going and living in Europe for a year and that was really, I think, changed my outlook and my direction and really made me, motivated me to want to do something with my life. I think, I was working odd, I think that we better let her in. Yeah, thank you. Vivere in Europa sicuramente ha cambiato il mio modo di vedere la vita, il mio essere verso gli altri è sicuramente cambiato con questa esperienza di vivere in Europa negli anni appunto 50 e è stato chiesto appunto come, adesso vedremo la risposta e poi ve la darò. So, ok, how do you change? Well, you know, I realized that I was looking into the future and realizing that I needed to really prepare myself. If I wanted to do something special, something worthwhile, something interesting, something exciting, and have some adventure in my life, I needed to get some kind of education. perché in Europa stavo lavorando odd jobs in restaurant stavo in la città stavo in Israele prendendo banane e pensavo non voglio fare questo per il resto della mia vita ho fatto diversi tipi di lavoro a esporsi quindi ad esperienze diverse tipo di avventure diverse nella vita e non era quello che volevo fare quando pensavo che voglio essere un fotografo quando pensavo che sia la vita gli ho appena chiesto questo viaggio inizia un cambiamento ma quando è che lui ha realizzato che la fotografia sarebbe stata alla sua vita well I was searching for some profession some line of work I was in college for about I would say two and a half years and then I decided that you know I've always loved films why not do something in the world of cinema and so I started I took some cinema classes I got a camera you know from the school and started making kind of simple movies and but in that program I was required to take a class in photography and that's what really changed my future right there stavo cercando di trovare una figura professionale sono stato appunto due anni e mezzo ho frequentato l'università dove ho iniziato a studiare cinema quindi ho fatto diversi corsi sia di cinema di storia del cinema ma anche di fotografia ed è stato quello appunto che mi ha permesso di avvicinarmi alla fotografia and you are world famous you became started becoming really well known in the 80's when you went to Afghanistan in a war zone and how did you land up there was it your choice to choose a conflict zone or was it I mean as a photographer as a freelancer you go to the more most difficult places because that's where you can sell something or was it a choice well I was just wandering around I was in India and then I went to Pakistan I was it was very hot I went up to the mountains to get away from the heat and just by chance I met some Afghan refugees who happened to be staying in the same hotel and we started talking and then they explained about this war that was going on in their country and then they invited me to come in and actually see it and photograph it tell this story and it seemed like a great opportunity a great adventure and so I decided to go but it was just random happenstance just coincidence Gli ho chiesto come mai lui negli anni 80 diventò molto famoso soprattutto per le sue foto in Afghanistan e gli ho chiesto come mai ha scelto l'Afghanistan perché per un fotografo freelance due possono essere i motivi per cui uno va in guerra e uno è perché è il momento in cui tu pensi che è il posto dove tu puoi avere l'opportunità per fare delle foto che poi ti comprano perché è un posto pericoloso oppure diventa una scelta e ora però la sua risposta è per caso stavo gironzolando appunto andando in giro per i paesi sono capitato in Afghanistan dove poi alla fine ho conosciuto ho incontrato dei profughi ed è lì ho facendo alcune fotografie e mi sono reso conto che questo era un modo anche di raccontare le loro storie attraverso le immagini attraverso appunto i famosi poritratti che abbiamo tutti quanti noi conosciamo lo hanno invitato proprio perché lui stava in India in Pakistan hanno detto vieni che ti facciamo vedere quindi è entrato nel mondo dei profughi sì ora io vorrei le sue foto lui è diventato molto famoso soprattutto all'inizio per le sue foto dell'Afghanistan che non sono le foto di guerra perché non sono le foto di cronaca a cui siamo abituati nelle sue foto raramente vedrete gli effetti immediati della guerra ovvero i corpi smembrati i morti la distruzione vedete soprattutto le facce gli sguardi e quindi non è un fotoreporter è andare oltre e questa è la sua grandezza come è arrivato a diciamo a pensarsi non più semplicemente come fotoreporter ma per immagini now you have become world famous for the photos in Afghanistan not because there were war photos so you didn't see any body pieces and blood and all that which is usually what we see from photos in the front line in war zone in conflict and that is the reporter's job and each dead body resembles the other in other words but your photos are different are different in a very specific way they can only be there in that moment in Afghanistan how did you develop did you I mean did you go consciously searching for this or what happened there when you were there because you stayed various times and for a long time well I think having the sort of the luxury of spending a lot of time getting to know the people I think that is a big difference from say just going in as a as a kind of on an assignment which you have to kind of dash in and dash out and so I got to know the people I got you know I live with the people and I think digging deep into the story you get a much different result than if you're kind of on the surface kind of living with people literally sleeping and eating with them kind of day in and day out I think created a different atmosphere different opportunity empathy exactly yeah having the possibility of being able to have a lot of time these people and of course living with them eating with them staying constantly in contact with them and this has created a magic rapport and give them the possibility of knowing these people with them with them together he has a lot sottolineato il tempo perché lui è stato in Afghanistan e in tutti gli altri posti per tanto tempo ora vorrei che lui elaborasse su questo quanto è importante il tempo il tempo e che qualità di tempo deve essere tu stess time che stai various times come important is time e what kind of quality time do you need to achieve what you did well I spent I think it's it's again it's not I mean spending the time getting to the people developing a kind of a passion and letting photographing more for yourself and photographing things that you respond to personally as opposed to kind of dashing around you know shooting pictures of what you think a magazine or newspaper might want to publish I never really I was more thinking about you know the pictures and the situation more personally and more telling the human story and not really worrying too much about the news story it was more personal more human developing these relationships with people this is what I cared more about and time has given the possibility of the photographic for a person's to create rapport with other people e la fotografia quindi permetteva di dimostrare questo rapporto che si è creato tra il fotografo e la persona, quindi la possibilità, il contatto umano che porta poi a creare appunto questo rapporto. Sì, ha anche aggiunto che lui non faceva le foto che voleva il giornale, ma quelle che avrebbe voluto fare lui, infatti gli volevo chiedere come reagivano i giornali. Ma come le nostre storie reagirono a questo? Non ci sono le storie usuali, ma ci sono qualcosa di più altra. Ma i miei fotografi sono pubblicati perché ero un po' di persone che aveva fotografi, ma credo che ho fatto molto bene in la pressa, ma come da una motivazione più di telling le storie che aveva pensato che aveva pensato che aveva pensato a me, e invece di lavorare per un'edita, 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 un'edita. Non avevo alcune linee, non avevo alcune linee, dovevo andare, fare ciò che voglio, nessuno mi diceva cosa mi fa, come fotografare o cosa fare, quindi ero solo facendo la mia proposta e seguendo la mia proposta, diciamo. Poi, inizio, inizio, ho iniziato a fare le tue, e poi, sai, sei chiesto di fare questo, chiesto di fare questo, ma sempre ho resistito a questo. Dunque, all'inizio non era importante per me seguire, diciamo, le varie direzioni dei giornali, era più quello di voler fare quello che volevo fare io, cioè seguire il mio istinto appunto nel fotografare e nelle scelte che facevo. Poi le cose sono cambiate, ma sempre con l'idea che comunque sono io a decidere e a fare delle scelte, non dettate necessariamente dai giornali. Ora io gli chiederò di raccontare come ci si muove in queste zone, perché ovviamente Steve è ora il fotografo più noto al mondo, e in Afghanistan lui è un americano con una macchina fotografica in un contesto che è già in guerra. Quindi come si trovano le persone di cui fidarsi, come ci si muove, come si riesce a raggiungere un'empatia con le persone che poi devono posare per i tuoi ritratti, quindi si devono fidare e tu non devi essere semplicemente il bianco occidentale che va lì e fa click, perché altrimenti non avresti quel risultato. Now I wanted to ask you if you could explain how one moves. I mean you are now the most famous photographer in the world, but then you were just an American with a camera in a war zone. So a foreigner, a rich foreigner let's put it, and you came to look at their war, what was happening to them. How did you manage to get the people to trust you? And how did you manage to find people that you could trust? Because that is also the most important thing. And how did you move around? Because to get those portraits, it means that the people had to trust you, and you had to trust them. Actually, they were very keen in having me come in and tell their stories. So they were the ones who really wanted me to come in and tell their story. I didn't really have to convince them. They wanted somebody. At that point, the story was really not being reported. And they knew enough. They listened to the BBC at night, and there was no news about Afghanistan. And they saw me as somebody who could have access to foreign media. So they were the ones who really were offering this hospitality and this help. So I didn't really have to convince them at all. They were the ones who were pulling me in and saying, you know, we want you to tell our story. And it seemed to me like an important story. And I kind of agreed with them that the government was kind of bombing their villages and trying to take over their way of life. So in a way, they seemed like their cause, their struggle was justified. That was once when journalists were not the target. Non ho avuto veramente mai nessun problema nell'entrare nelle loro vite. Anzi, loro non ho dovuto mai convincere. Sono stati sempre loro che erano molto propensi a farsi appunto fotografare e farmi entrare nelle loro vite. Lui racconta, questo accade negli anni Ottanta, quando il giornalista non era ancora un obiettivo. Quindi erano loro che volevano che la loro storia venisse raccontata. Quindi noi, io come fotografo, sono stato portato dentro la storia da loro che erano assolutamente, volevano che attraverso di me il mondo sapesse qual fosse la loro condizione. Quindi erano una condizione, tra virgolette, ottimale perché erano loro che volevano far conoscere la loro situazione. Infatti adesso vorrei chiedere, questo era negli anni Ottanta, quando i giornalisti, la gente si fidava della stampa e sperava che così ci sarebbe avvenuto un cambiamento in meglio. Ora è diverso. Now it's different, even the attitude towards the people. Early on, about six months after I first went to Afghanistan, the Americans realized this was the opportunity to trap the Soviet Union into kind of a Vietnam quagmire. and the American military started sending billions, billions of dollars of rockets and small arms and anti-aircraft and horses, literally billions of dollars. it was like this, so they saw, they needed, at some point they needed that publicity to show the world that they were actually using all this armament to fight the Soviet Union. Anche sei mesi dunque dopo il mio ingresso in Afghanistan, c'era stato già il cambiamento dagli Stati Uniti, l'America aveva comunque investito milioni di dollari con le armi per poter appunto creare una pubblicità in questo periodo. quindi già la situazione l'ha sicuramente cambiata anche subito dopo i sei mesi dal mio arrivo in Afghanistan. si, ha raccontato come gli americani in seguito anche alle loro foto che hanno trovato l'esempio dell'Afghanistan, volevano intrappolare l'Unione Sovietica perché loro, diciamo, era l'Unione Sovietica che era entrata nell'Afghanistan ancora, volevano intrappolarla in quello che era il Vietnam dell'Unione Sovietica, infatti fu anche così, quindi spesero miliardi di dollari in armamenti, li portarono anche i cavalli, ma soprattutto armamenti pesanti affinché si armasse gli afghani contro i sovietici, tentativo che ovviamente riuscì e quindi in quel caso i fotografi occidentali erano i benvenuti perché stavano con gli afghani e quindi gli americani appoggiavano questo. You became very famous for your portraits in that period. How did you first start? What was your first quest? Why did you start concentrating on portraits? Well, as... Wait, I have to translate for him. Lui è diventato ovviamente molto famoso per i suoi ritratti. Tra poco parleremo anche del famosissimo ritratto della profuga afghana. e come mai hai iniziato a fare questa ricerca sui ritratti? Well, you know, I think we all have different, you know, I was more... I just was fascinated with portraits, the human face. Some people might want to photograph flowers or landscapes or sports or still live or whatever. I just thought the human face was fascinating. And right from my early days in school, this was something which I pursued. And then when I started working, you know, traveling in India and Afghanistan, I kept that passion going. And eventually ran across the Afghan girl, which turned out to be my most successful portrait ever. Sì, grazie. Ci sono diversi appunto modi di fotografare. Chi fotografa i fiori, chi praticamente si interessa allo sport. e nel mio caso invece sono sempre interessato ai ritratti, alle persone. Mi sono avvicinato così alla ragazza afghana, seguendo appunto questo interesse verso i visi, verso i ritratti appunto delle persone. Lui ha già accennato che ha fatto poi lì in Afghanistan il suo ritratto più famoso della ragazza, che all'epoca era una bambina, quella con gli occhi verdi, che è comparsa sulla prima pagina del National Geographic. So, quando hai incontrato lì, hai capito che stai facendo la foto dell'anno? O, beh, della decada? Sì. Sì, grazie. O, guarda,." giocatore. il momento, in that situation all you're thinking about is trying to get the picture in focus and getting everything right I was working on a tripod it was very slow and I knew that it was a powerful picture the situation was powerful but I didn't think about that because I was thinking about other things it was very chaotic and all that in the room it was a little bit difficult because she was a bit shy but you know I photographed many of the other students in the class and once the teacher explained he's come here to tell our story the world needs to know about the situation in Afghanistan, that's what he's here for, then she was more kind of willing but she was so it wasn't a problem in that moment I was really thinking about to put it a fire to be sure that everything worked well when I was doing the photography the only difficulty forse is that the girl was a little timid otherwise she didn't have had any problems you and when you met again what happened so it was the first time that she ever got a photograph done and 17 years later you found her again and what was her first reaction what did she tell you well she was surprised and a bit curious and perplexed you know what's all the fuss about why are you you know why why am I so you know why is this important and what she didn't realize that her picture had been reproduced you know hundreds of millions of times in different magazines and what not and she so we had to explain it to her and then eventually it started to sink in because she never she was illiterate she had never seen her picture never magazines or newspapers so this was like something but when when her friends of her started explaining to her that this was a big deal and we started talking about compensation for the picture for the use of the picture then it started to sink in when when the when there was they sensed there was an opportunity here there was an opportunity for some money and some help that they were changed I a little sorpresa a little perplexa soprattutto curiosa per questo successo per questa fama appunto che aveva raggiunto lei comunque era analfabeta ed era quindi sorpresa di scoprire che c'è stato appunto che era avuto tutto questo successo 17 anni dopo averla incontrata però chiaramente la curiosità diciamo che è sopravvenuta dal fatto che ho appena saputo di un ricompenso che avrebbe preso il sotteggiamento è cambiato ovviamente era molto contenta Steve chiedeva siccome molti tra di voi sono fotografi suppongo e hanno anche delle curiosità quindi se volete fare delle domande avete delle curiosità lui è qui anche per rispondere alle vostre domande quindi I was asking them if there are any questions from the audience I mean they should feel free to to post them if they have any because I mean I know that many of them are photographers so they came here I wanted to ask you I mean in all all your photos are always humans how come tutte le sue fotografie famose ci sono sempre anche nei paesaggi comunque c'è l'elemento umano c'è un essere umano perché c'è it's just what I happen to be fascinated with as I said earlier I mean some people like landscapes some people I don't know flowers or or you know I just I'm always the human condition how people relate to one another human behavior is something which I'm always fascinated with whether I'm walking through an airport or a neighborhood I'm fascinated with animals still my next book happens to be about animals so anytime I see a dog or a cat or whatever in some funny interesting situation I kind of shoot it but I love how people relate to each other on the street or in a park or in some situation ripeto se avete delle curiosità c'è appunto Romina ha un microfono quindi sentitevi liberi di fare delle domande anzi vi farebbe anche piacere io ora vi vorrei chiedere lui è diventato molto famoso per le sue fotografie a colori molti fotografi soprattutto nelle zone di guerra scelgono di drammatizzare anche col bianco e nero moltissime foto sono in bianco e nero le sue sono sempre a colori perché questa scelta voglio chiedere perché tutti fotografi sono in color mentre molti fotografi chiedono black e white per dramatizzare colori il mondo è a colori quindi mi serve a logico e naturale poter fotografare il mondo a colori per quello che è ovviamente ovviamente tante cose sono cambiate negli ultimi 150 anni alla fotografia appunto però è più logico secondo me che il mondo è quello fotografare il mondo per quello che lo vedo quindi ha colore e quindi a colore e quindi mantenere appunto il mondo fotografare il mondo per quello che è scusa oh sorry appunto dicevo che il mondo è a colori il mondo che ci circonda il mondo è a colore quindi mi sembra naturale e logico fotografare il mondo per quello che è a colori e anche se ovviamente la fotografia è cambiata negli ultimi 150 anni dal bianco e nero si è appassata al colore però è appunto è naturale e logico per me fotografare il mondo a colori per quello che è buonasera ho capito che il bianco e nero va bene usarlo per un tipo di fotografia soprattutto e il colore per il mondo che ha colori ti è mancato qualche volta un colore in una fotografia? altra domanda o lo cerca? first question he's asking if ever in a photo that you did you were missing out on a color you would have wanted another color well you know there's um it almost seems um getting the right picture is very difficult and um most of the time when you're shooting your you know the right you don't have the right moment it's it seems almost um in the course of a day i always feel lucky if i get sort of one or two good pictures not that you're not trying but often to get all the elements together the composition the color the moment to get everything right is 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 not easy so you know it happens all the time when the color isn't quite right the composition isn't quite right the light isn't quite right and that's just the nature of photography alla fine insomma della giornata quando quando fotografo mi rendo conto che ovviamente ci sono cioè il fatto che è difficile trovare la composizione giusta la luce giusta il colore giusto quindi può capitare ovviamente che viene a mancare ed è sempre molto difficile magari per la risposta in goda a tutte le altre domande però le mie due domande sono queste la tua migliore occasione avventura la tua peggiore esperienza your worst and your best experience work-wise in life? nella vita o nel lavoro? lavoro lavoro work best experience work-wise best photo and worst experience working a work well i was going to say the best experience was meeting my wife and the second best experience with our having our daughter that was the first and the second the worst i would say is always the you know the death of a family member probably the other thing in more of a professional vein was being in an airplane it was a small airplane it was a having a crashing having this accident in Yugoslavia in 1989 when i came very close to drowning so that was that was very traumatic and i try to think about it too much because it just kind of it still kind of kind of freaks me out of it stavo per dire appunto che la migliore comunque esperienza che non è lavorativa ma di famiglia è aver incontrato mia moglie e la nostra bambina avere una figlia è l'esperienza più terribile appunto personale da parte di un famiglio dal punto di vista invece professionale è stato il momento più brutto è stato quando sono per lavoro mi sono trovato proprio vicinissimo appunto di annegare nel 1989 the pilot as we were flying around this lake he he came very close to the surface of the water he was about that close to the surface of the water i said to him i said what the hell are you doing we didn't get in this plane to go that close if i wanted to be that close i could have gotten in the boat and literally stood up i said go up go up and it was too late the wheels got caught in the water and the plane flipped upside down and suddenly i had a street belt on i was underwater it was like january and it was cold i couldn't see anything i thought this is really this is really this is it ovviamente era un incidente aereo e il pilota appunto si avvicinava così velocemente all'acqua e che mi sono ritrovato poi immerso all'acqua fino al bacino ed era gennaio faceva molto freddo e pensavo adesso è proprio arrivato il momento e quindi proprio vicinissimo appunto ad andare gare l'esperienza appunto professionale più brutta eh sì che quando l'aereo insomma raccontava che l'aereo stava vicinissimo all'acqua e lui urlava al pilota insomma portalo su portalo su ma le ruote avevano colpito l'acqua e quindi l'aereo è stato diciamo portato verso il basso e si capovolge e quello è stato il momento forse più drammatico perché stai con la cintura di sicurezza dentro l'aereo capovolto in acqua e devi uscire vivo gli ho chiesto come si gestisce la paura perché andando in zone di conflitto può succedere succede che le persone muoiono vengono ferite può succedere agli altri ma può succedere anche a te come si gestisce la paura ovviamente dipende dalla situazione ma comunque bisogna sempre trovare il coraggio di andare oltre di superare questa paura e quindi appunto con questo spingesi sempre comunque a superare la paura con il coraggio e di andare avanti appunto anche se dipende dalle situazioni sempre sul colore sempre sul colore a guardare bene molte fotografie sembrano dico sottolineo sembrano quasi monocromatiche nel senso che c'è un colore dominante al massimo ce ne sono due allora la domanda è questa è una chiara modalità espressiva o sono dettate dalle circostanze looking at the photographs and seeing as I many you choose one tone of color or maximum there are two colors is that a choice of yours or how come well I think photographing for so many years and practicing I think that you you perfect your craft and your vision you know I mean I have gone out and made literally hundreds of thousands of pictures and I think in time you perfect a way of seeing your vision your aesthetic but it happens but it happens over time I think that you through trial and error you can you go out and you shoot you know 50,000 pictures then you go back and you shoot another 100,000 another 200,000 that's a lot of pictures and you eventually hone your skill and find your vision and it's 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 like you want to translate that photograph for many years you perfection but especially the aesthetic change obviously after 50,000 100,000 of course you get to a different view with the perfection of having photographed for many years again I think through trial and error you go out I remember as a young student shooting and thinking oh this is a great picture oh my this is really amazing you get back to the dark room you print it up that wasn't great at all it's kind of not that interesting and so you do that again and again and again another do that another 10,000 times do that another 50,000 times and you eventually even somebody who's a bit slow as me you eventually hone your technique e appunto fare tantissime fotografie si perfeziona quindi anche come studenti hanno fatte tantissime arrivare appunto a perfezionare la tecnica quindi tornare al discorso del colore col perfezionamento per fare tantissime fotografie continuare a fare sempre tante fotografie per perfezionare la tecnica quindi mantenere avere appunto arrivare a quella visione che si vuole ottenere i don't think it's that complicated i think you know we've all seen these chinese acrobats do these amazing feats they they go around on a unicycle you know a unicycle yeah and they throw these cups up in the air and you think that's that's impossible but in fact it's just practice practice so the you know you see these people that can do these amazing things but it's just trial and error and practice now if if you have the stamina and the discipline and the time then you can do anything it's practically practice if you think the acrobatic Chinese that do incredible things they arrive at that level because you continue to do there are mistakes you go forward you continue practice practice continuously so you get to perfection last week I went to a Cirque du Soleil presentation with my wife and they were tightrope walking and doing all this incredible stuff you think wow you're on a tightrope and you're jumping up and down it's like it seems impossible but it's 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 dedicating yourself and and spending time and discipline somebody said that it's you know 90% perspiration and 10% inspiration I'm sorry 90% 90% perspiration when you sweat the sweat comes off your face and 10% inspiration si dice che appunto il 90% il sudore e il 10% invece l'ispirazione buonasera maestro tre domande brevi una se c'è uno scatto che lei ha perso ed è ancora rammaricato per quello scatto due se riesce a percepire la differenza tra un fotografo maschio ed un fotografo femmina se secondo lei c'è una differenza c'è un filtro diverso tre se c'è stato in questa sua breve vacanza a Pescara breve sosta un momento una persona una situazione che hanno suscitato il suo interesse fotografico ma in maniera forte grazie a Pesce o 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 Pesce I think that there's missed opportunities literally every day it's not just once in a while I mean literally you know again things are rarely perfect there's always something a little bit off so you know you might miss the timing you might miss the light so missed opportunities happen every day l'opportunità mancata appunto accade ogni giorno e molto oramente si raggiunge la situazione perfetta con la giusta luce e la giusta composizione quindi veramente l'opportunità è appunto come dicevo varia ogni giorno and as far as whether a man or a woman opportunities you know who's could photographies I think that it's equal I think there's a lot of brilliant women in photography oh no I don't know I don't I don't I don't think I don't think you can look at a picture and it never never occurred to me I don't I don't know how you could even I don't I don't see how you could look at a picture and say oh that's a feminine touch that's a masculine touch there's a lot of some of the best pictures I can think of of a mother and a child and sort of that tender moment were actually taken by by men on the other hand you get somebody like Sally Mann who's done a lot of pictures of her children but it's random I don't think you can say for me I don't I could I would never look at a picture and say that was definitely taken by a man or a woman unless it's no I don't I don't think you can say that and then you have the whole anyway no non credo proprio che sia possibile dire che c'è un tuttacco femminino maschile nella fotografia ci sono per esempio casi di fotografia di donne con bambini che poi invece sono salivate da uomini quindi non è detto quindi sì secondo me non credo che ci sia appunto questa differenza I want to take a little video of everybody just just to cut as a memory è un video per il ricordo di questa serata I always like to have a little movie of what happened here and I used to get myself ok thank you for thank you for bearing with me grazie grazie oh well you know what it's again you never quite know where a good picture is going to reveal itself I I thought I made a fairly interesting picture we were I'd only been here for on the street a couple an hour or so and I we walked past this shoe shop just near the hotel and there and there was this little dog he had this little sofa it was a miniature sofa and he was asleep you know reclining and you could tell that he was very pampered and very careful he was there relaxing right by the door so I made a picture with my phone and I think that was a I thought it was a really interesting picture una fotografia interessante veramente l'ho fatta quando mi sono passato davanti a un negozio di scarpe c'era un cagnolino che stava allungato seduto e sembrava proprio un'immagine molto molto coccoloso e quindi un'immagine che ho appunto ho avuto modo di di fotografare sono decisamente un grande fan delle fotografie con dei cell phone e quindi con i telefoni appunto le fotografie che sono anche di ottima qualità salve buonasera io le faccio due domande veloci lei è un fotografo ormai affermato però quando ha iniziato a intraprendere questa carriera c'è stato qualche fotografo che l'ha ispirato anche se possiamo dire che il suo stile è unico ed è facilmente riconoscibile quindi se c'è qualche fotografo nel passato che l'ha ispirato e un'altra domanda lei ha avuto l'onore dalla Godac di scattare con l'ultimo rullino di Godac Chrome e come è stato invece adesso il passaggio dall'analogico al digitale secondo MacCarrie la seconda è che si può vedere subito il risultato e la seconda che si può vedere ovviamente il risultato immediato quindi si può correggere immediatamente la luce per il risultato finale e il digitale è ovviamente molto più sensibile la camera quindi hai bisogno di molta meno luce per fotografare che con la pellicola ovviamente no invece col digitale anche ti basta pochissima luce e riesci a fotografare e allora il primo che ci sono chi è che ci sono che è cosa fotografa o la come i filmo una una un che in è e più viene men è 1 Fortsan Dottor e Elliot Erwitt e un'amazinga fotograferta, un'amazinga fotograferta. Grew up in Italy, and then he moved to Paris, then he moved to Los Angeles, and now he lives in New York. But he was, I think Henri was really the person who I thought was the most was the most influential and the two photographers who have influenced my work, and then also my friends, are Bresson and Elliot Erwin. Could you please repeat what you said after that? I missed the second part of that. No, I just said that I thought they had a great sense of humanity, a great sense of craft, they were really I think for me the most influential show. E' stato molto ispirato appunto nel senso dell'umanità e dell'abilità appunto di questi due fotografi. La signora. C'è una pure signora e un altro ragazzo. Prego. 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 I would like to ask you a question just to one short question. First of all you told us since last night that you were used to take pictures when you were very young. So what is the main difference between maturity and youth? I mean you got a different eye or you just are keeping on taking pictures with the same style looking at through the same kind of nuances. We all grow older but what's the main difference for you? You get very extraordinary eye. Thank you very much. Come 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 la traduco in italiano a sto punto? Che devo fare no? Allora la domanda suppongo la traduzione banale c'è differenza tra quando uno fotografa da giovane quali sono e con gli occhi da grande il suo sì certo il suo però insomma se la facevi in italiano era meglio amore mio comunque well I don't I think that you want I think you want to grow but I don't think you're the way you see really changes so the difference between youth and when you get older I think that you perfect your eye you're better at your craft and maybe you see better meaning you you're more observant but yeah I think that you you you're you're better at your craft because you've learned more but I don't think your the vision hopefully improves but maybe not dramatically I think you have you photograph in your own way your own personality your own sensibility the it's fun to experiment of course but maybe fundamentally it doesn't really change them e non cambia molto ovviamente si cresce quindi ovviamente con la crescita si cambia si migliora costantemente si migliora il modo di guardare e il perfezionamento che c'è dopo quindi in realtà non c'è il cambiamento è proprio con la con la crescita che è naturale io voglio chiedere solo una cosa siamo passati dal dall'analogico al digitale e dal digitale ai cellulari molti fotografi professionisti fanno le foto con i cellulari cosa consigli a chi scatta ancora con la pellicola? alla parola film ha detto e l'igola no no I think you know I think you have to photograph what gives you pleasure what you feel is important to you I don't think it matters if it's an 8x10 view camera or a cell phone or if it's film I don't think any of that matters the only thing that matters is that you're photographing with your own vision something that fulfills you something that gives you pleasure something that gives you meaning in life nothing else matters it's not the film it's not digital it's not this it's not that it's just what motivates you inspires you Alla fine non importa se è appunto il cellulare se è la pellicola oppure se è il digitale è quello che ti ispira la passione che hai appunto nel fotografare e le passioni la visione che tu hai è quella più importante della pellicola o di usare il digitale o del cellulare quindi approvi che i fotografi i professionisti scattino con il cellulare do you approve do you approve that a professional photographer can use the cellulare yeah I mean I think that again if it's for your personal use then obviously it doesn't matter if you're shooting for a client that's a different story then the client who's paying you then they have they have a certain say so you know but if it's just for yourself for your art for your se soltanto per il tuo uso personale va bene però no a per il punto di vista professionale yeah I think it's fine I mean I I I don't sell my cell phone pictures because most of my cell phone pictures are are personal and you know when I'm out I'm not photographing in a more serious way that I have my sort of sort of SLR camera you know because there's a limit to how large you can blow up a cell phone picture whereas with a a Canon or a Leica or a Nikon or Sony you can make a really big enlargement ha dato una risposta molto pragmatica cioè se il tuo committente è d'accordo va benissimo se lo fai per piacere cioè io le foto che faccio sul cellulare sono private non è che le vendo e si però dipende chi è il committente come cioè è una risposta pragmatica dice se io non fotografo col cellulare perché col cellulare non è che posso ingrandire all'infinito si sgrana perde la grana e ovviamente l'ottica e così via quindi devi cioè è devi vedere il fine dove come ora questa è la risposta dal giornalista prendila tra parentesi se ti sta succedendo qualcosa di irripetibile davanti la fotografi pure con un cellulare di prima generazione va benissimo e la vendi se tu hai tutta l'attrezzatura fallo con quello la venderai meglio ecco insomma questo first of all I just wanna say thank you for giving to the modern history the real face of social and humanity and my question is what's your favorite color and what do you think about the social era and the social impact of the social media in our days Allora aspetta qual'è il suo colore preferito e che cosa e l'impatto le social media e l'impatto fantastico what's your favorite color probably my favorite color is blue I think that's everybody's favorite color il blu è il colore preferito che penso che sia il colore preferito di tutti quanti e well I think social media whether it's Instagram or Facebook or any of that stuff it just depends on what you make of it I think it can be used to great benefit and to get out you know people can publish their own stories and their own you know work and sometimes there's just a lot of crap out there so I think you just have to decide how you wanna spend your time but you know I think that it's just you just have to navigate and make sure you're spending your time on useful meaningful things and not just nonsense e dunque social media che sia appunto Facebook e Instagram appunto l'importante appunto e sono ovviamente positivi ha i suoi aspetti positivi l'importante appunto è capire come si vuole appunto trascorrere il tempo e per quanto tempo appunto sui social media altrimenti sono aspetti positivi ci sono ok ci sono vedo altre due o tre domande e poi passiamo volevo sapere nella scelta dei tuoi progetti quali sono le due prime priorità che ti muovono per poi realizzarlo quali quali I think you if you're going to go to a place or be involved in a subject, I think it's important for me to go to a place that I want to learn about a place that apart from the photography is a place that fascinates me, you know, culturally or whatever, so I think that, you know, sometimes you want to be, even if you don't make any pictures you've enjoyed walking around, I mean we go to Cuba several times and it's just a pleasure to walk around the streets even apart from the pictures, so I think I pick projects based on what intrigues me, what's interesting what I want to learn more about and and the people you know, I think a place like you know Cuba or Burma or Tibet are places that continually fascinate Stunde and the places that I enjoy it's I like to explore the places I like to explore I went to Cuba Tibet and Burma and I can call it and explore and explore and the culture Quindi tutto quello che mi dà la possibilità di frequentare dei posti che mi interessano. C'è sempre qualcosa che mi intriga, qualcosa di questi posti che appunto mi spinge a visitarli. I suoi scatti raccontano quella che è la realtà di molti luoghi, di molti posti. Volevo sapere se c'era un'epoca in particolare che se avesse una macchina del tempo le piacerebbe vivere per poterla raccontare con le sue fotografie. I think as a photographer, being in, I think, World War II, being in Europe in World War II, and witnessing all of that would be fascinating. But probably my first choice would be going back to some ancient time, again, Rome, Greece, Egypt. Questo era appunto epoche interessanti. Buonasera, io avevo due curiosità. La prima è sapere se nel processo digitale lei fa qualcosa di particolare per riproporre il look famoso della Codacrom che ha contraddistinto i suoi primi anni. La seconda curiosità è se ci sono delle lunghezze focali alle quali lei è particolarmente affezionato o in particolare modelli di obiettivi ai quali più per ragioni affettive che tecniche è affezionato appunto. Grazie. 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 I don't do that and the other answer was I generally use a zoom lens a zoom lens that goes from sort of 24 to 28 to you know 80 or 90 and then I have another lens that goes up to 280 or 300 so I like that I used to use fixed lenses but now I use mostly zoom lens ero solito usare appunto le lenti quelle fisse adesso invece tendo a usare le lenti che vanno da 28, 80 anche 280 quindi adesso sono più propenso a questo tipo di lens appunto che zoomano da 28 80, 190, 280 sulla pellicola cioè dice non usa nulla per ricreare quell'effetto I have curiosity you how come there's so few photographs of the united states your country not interested in them they don't appeal doesn't appeal to you well I think scusate gli ho chiesto cioè una curiosità cioè le sue foto sono foto famose soprattutto Asia Africa Medio Oriente mancano gli Stati Uniti il suo paese come mai non ha mai avuto la curiosità di fotografare il suo paese oppure non gli suscita curiosità perché non l'ha fatto I think it has to do partly that I'm more fascinated with other places that are unfamiliar places that I want to learn more about and you know the familiar is somehow always difficult to see that in a fresh way in a new way I think we're less intrigued by you know what's familiar again than a place like you know Tibet which has incredible landscapes and culture and people I would like to spend more time photographing in my own country but it's just a question of priorities what's important to me to do now a che fare soprattutto con il fatto che sono più preso sono più curioso più affascinato da posti che non conosco che non sono familiari e poi chiaramente in base alla priorità che adesso appunto è quella di visitare posti che sono a me appunto non familiari buonasera dopo una vita passata a fotografare il mondo nel bene e nel male in diverse circostanze che cosa Steve McCarrie ha compreso dell'umanità attraverso le sue fotografie in a good and in the bad what did it what did you learn about humanity I think what I learned was that sort of the commonality of people and how we have more in common with each other you know whatever your race or religion or whatever and it's you know the differences which are so superficial end up taking such great significance and generally that kind of leads to disastrous consequences the color of your skin your religion and ultimately we're all pretty much the same but we get hung up on these cultural you know racial kind of hang up ho imparato il fatto che tutto sommato siamo tutti quanti uguali abbiamo comunque a parte che le differenze che poi sono minime quelle di possono essere di razza o di religione ma comunque abbiamo moltissimo in comune tutti quanti quindi queste differenze sono veramente minime le differenze che poi scatenano guerre e conflitti sono in fondo delle differenze molto superficiali sono ancora domande oppure ecco sì lui rimarrà comunque qui per firmare le copie del suo libro quindi domani buonasera io innanzitutto la ringrazio perché ieri sera mi ha concesso tramite la sua spesita gentilezza di fare una foto accanto a lei la ringrazio infinitamente di questo allora le sue foto sono straordinariamente belle magari sarò monotono a dirlo sono tantissime ma tutte molto belle e interessanti condivido la sua opinione che in ogni foto ci debba essere l'elemento umano il viso gli occhi il soggetto che ti crea un'emozione è chiaro che poi non sempre riesce allora le chiedo se a lei non in tempi antichi se ne è mai capitato di provare un'emozione di fotografare quel soggetto e di non riuscire nel suo intento le chiedo questo solamente perché non vorrei sentirmi più solo grazie 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 a tutti 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 più often than not, most of the time we're not able to get to the destination. Photography getting that great picture is the exception rather than the rule and many times I've wanted to get that emotion wanted to get that moment sometimes you're successful and sometimes most of the time you're not but this is life. Thank you. Yes, I wanted to ask you one thing. I wanted to ask you one question that another young man about the fact that Kodak gave the last Kodak that was produced. I wanted to ask you what you thought in that moment about the last 36 photographs of the story of the photography and especially what he photographed with the last 36 photographs. You did the last film to photograph with and you did the very last photos with a film. What did you photograph with the 36 last thing? What did you think when it was the very last time that one was using film and the Kodak gave you the last... Well, I wanted to photograph iconic people and iconic situations basically I photographed so I thought living in New York Robert De Niro was an iconic person personality actor so I photographed him I went to India and photographed some other actors and then I photographed a tribe since Kodakrom was disappearing I photographed this tribe which was disappearing and then I came back to New York and I kind of ran up with ideas and I just did some pictures on the street and that was it. so they were very important I thought that were the last 36 photos so I wanted to photograph the great characters one was Robert De Niro then this show that was disappearing like a movie so I photographed that and I returned to New York and I made a few photos and then it was finished. Thank you very much. Thank you for coming. It's a pleasure. Honored to be here. Hope to come back and make some pictures in Pescara. Grazie per essere venuti è un piacere appunto essere qui e spero di tornare a Pescara e di fare anche delle fotografie qui a Pescara. Bravo! Ieri veramente Mr. Mercury si è trovato in un matrimonio e ha avuto modo di fotografare un matrimonio ed è stata una sorpresa anche per gli sposi che ho saputo che erano veramente commossi e quindi voleva appunto dirlo e beh a questo punto veramente Mr. Mercury sta cercando di ritracciare questi sposi perché non solo ha fatto delle fotografie ma credo anche un video che quindi avrebbe come potete immaginare sarebbe un bellissimo regalo da fare a questa coppia che per ora è inconsapevole di Pescara che per ora non lo sa Ok, rispediremo il video Eravamo proprio nel momento giusto quando appunto la cerimonia era finita e stavamo per uscire quindi nel momento giusto appunto abbiamo fatto appunto questa fotografia una coppia molto bella il fotografo che si trova nel posto giusto al momento giusto lui adesso rimarrà qui per firmare le copie del libro e grazie, grazie a tutti Grazie 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 Grazie